Buongiorno e bentrovati a tutti i nostri spettatori da Simply Beats, nuova puntata della nostra rubrica Facebook. Oggi siamo collegati con due ospiti che sono Antonio Capaldo, direttore di Ag Finance e Alessia Corrado che è Organizational Development Manager di 24 Finance. Buongiorno a voi. Buongiorno Paolo, buongiorno Antonio. Buongiorno. Ag Finance è una realtà che non ha bisogno di grandi presentazioni per il nostro pubblico abituale perché ha creato un CRM finanziario che è uno dei più utilizzati se non il più utilizzato in assoluto nel settore della mediazione credizia e non solo. E 24 Finance è uno dei principali clienti di Ag Finance. Quindi con voi oggi ci piacerebbe parlare un po' di quello che è lo stato dell'arte relativo allo sviluppo di questo interessante strumento e di quelle che sono le prospettive del settore della mediazione credizia nei prossimi anni e di quelli che poi sono anche i progetti in cantiere per le vostre società. Inizierei da te Antonio e ti chiederei un po' di raccontarci come sta andando quest'anno che è appunto causa pandemia e un anno sicuramente particolare per Ag Finance. Ti ringrazio Paolo. È stato un anno naturalmente difficile soprattutto nel riuscire a mantenere i rapporti con i clienti perché come sappiamo bene le chiusure, la difficoltà di spostamento hanno reso necessario una revisione un po' anche del lavoro dei nostri clienti. Come azienda abbiamo nel corso del 2020 abbiamo completato la trasformazione in S.P.A. quindi abbiamo deciso di accelerare sul piano di investimenti e sul piano di crescita. Quindi oggi abbiamo fatto un aumento di capitale importante, oltre un quarto di milione di euro e naturalmente abbiamo continuato l'investimento nello sviluppo delle nuove funzionalità. Alcuni potenziamenti che sono stati molto utili anche durante il periodo di pandemia hanno riguardato ad esempio la firma digitale che è diventata quasi indispensabile per la gestione di una serie di contratti visto che era molto difficile procedere in sede. e naturalmente questo ci ha permesso di concludere l'anno comunque in crescita e di prepararci per il 2021 avendo anche avviato collaborazione con un primario istituto bancario e quindi i nostri investimenti andranno verso anche quel tipo di potenziamento. Oltre naturalmente a continuare a servire i nostri clienti come ad esempio 24 Finance che ci hanno preferito e ai quali noi continuiamo ad offrire e puntiamo ad offrire sempre soluzioni sempre più performanti e rinnovative. Alessia a questo proposito ti chiederei subito di raccontarci sinteticamente per quale motivo avete deciso di affidarvi ad Ag Finance. Allora il nostro modello di business prevede che il collaboratore acquisisca clientela sia in modo diretto sia attraverso clientela di agenzie immobiliari. Come tutte le società di mediazione creditizia siamo soggetti ai controlli dell'OAM del nostro organismo di vigilanza in riferimento al rispetto delle normative di trasparenza anti riciclaggio e privacy. Siamo molto attenti noi all'aspetto normativo. Ag Finance ci permette come società di effettuare tutti i controlli necessari sulle pratiche. Avevamo ovviamente la necessità di dare ai nostri collaboratori uno strumento di lavoro più performante e Ag Finance oltre ad offrire nuove opportunità di ottimizzazione è una piattaforma che gestisce l'intero iter della pratica quindi dalla preventivazione alla fatturazione che è integrata con la piattaforma migliorando quindi l'operatività dei collaboratori, del back office e della nostra amministrazione. La piattaforma è completamente personalizzabile in totale autonomia e si evolve con noi e con il sistema. Ho capito, ho capito. Senti, in linea generale come vedete l'evoluzione del settore della mediazione creditizia nei prossimi anni? Quali saranno diciamo i trend principali e quali saranno le sfide che tutte le società e quindi anche 24 Finance si troveranno davanti? Ma allora, il futuro è sicuramente la digitalizzazione. Lo scoppio della pandemia e l'utilizzo forzato dello smart working ha accelerato l'evoluzione del settore verso un maggiore utilizzo della tecnologia. Questa evoluzione ha influito positivamente sui processi rendendo gli stessi più efficienti. La stessa relazione tra il cliente e professionista è più rapida e puntuale. Anche il cliente oggi è più evoluto, infatti ha una maggiore consapevolezza delle proprie esigenze e c'è ovviamente anche da parte sua un maggiore utilizzo degli strumenti tecnologici. Il modello della banca tradizionale ormai è obsoleto. Il cliente non fa più e non vuole più fare la coda agli sportelli. Quindi la nuova frontiera è l'accesso ad un credito semplificato e immediato con una migliore relazione tra cliente e professionista. Possiamo dire che questa crisi, come tutte quante le crisi, ha creato molte difficoltà ma anche opportunità. Chiaramente l'impegno è quello di cogliere queste opportunità. non è facile, bisogna avere una visione ad ampio raggio e lavorare duramente. Però ecco, i risultati da quello che ci stai raccontando evidentemente poi si raccolgono. Assolutamente, è giusto avere l'intuizione e la capacità di cogliere le opportunità, come detto. Bisogna sempre lavorare, come dire, guardando due o tre passi in avanti rispetto a dove si mettono i piedi. Esatto, esatto. Ecco, a questo proposito ritornerei a te Antonio e ti vorrei chiedere di raccontarci un po', secondo voi, quali sono le sfide principali che andrete ad affrontare nel prossimo periodo e quali progetti avete in cantiere. Grazie Paolo. Per quanto riguarda il futuro, noi vediamo, abbiamo scelto almeno di perseguire tre direttrici di sviluppo. Naturalmente, e come detto, e come ha correttamente fatto notare Alessia, visto che, come dire, ancora più di noi è sul campo, nel quotidiano, la digitalizzazione dei processi è un must, quindi bisogna andare molto oltre, quindi la dematerializzazione di molta parte della documentazione. In questo c'è un incremento della sensibilità anche da parte delle banche che però hanno un problema molto spesso di processi interni, ma tutto il processo di digitalizzazione dell'intera documentazione è anche un percorso di stabilità normativa, per cui immaginate un mutuo fatto senza vedere una carta scritta per un paese che è molto, come dire, cartaceo nell'animo, diventa un qualcosa che può sembrare ancora fantasioso, ma che in realtà è un qualcosa a cui dobbiamo tendere. Noi siamo già pronti, naturalmente, il problema è che la normativa di supporto, dove per normativa sappiamo bene che deve essere non solo la validità giuridica, ma la resistenza ad altre contestazioni, è un qualcosa di cui intendiamo lavorare. Certo, però come dici tu ci sarà ancora bisogno di un po' di tempo anche per vincere proprio, come dire, un atteggiamento culturale. Sì, sì, assolutamente. Noi, come detto, abbiamo iniziato a lavorare anche con intermediari bancari sulle digitalizzazioni dei processi, sono processi lunghissimi perché tra l'altro toccano compliance, toccano paure, reticenze. Devo dire anche un po' la giustizia italiana che è molto affezionata al documento cartaceo, è ancora un po' troppo reticente verso il documento elettronico, come se le due cose fossero assolutamente non al pari livello. Naturalmente la crisi ha anche portato un'esplosione, porterà un'esplosione di quelli che chiamiamo i non-performing loans. Abbiamo avviato un progetto di ricerca importante e lo sviluppo di... stiamo lavorando su sistemi che permettano questo tipo di gestione, perché una parte degli operatori si sta predisponendo anche a gestire questo tipo di problemi, anche perché naturalmente anche una corretta gestione di quelli che sono non-performing loans è critica se vogliamo rilanciare questo paese senza lasciarci delle macerie intorno, perché naturalmente può capitare che ci siano delle difficoltà, degli inciampi, ma abbiamo tantissimi professionisti del credito capaci, competenti, che vogliono anche aiutare le persone a risolvere un problema e aiutare anche l'intermediario, perché alla fine dietro questa bellissima ed esotica sigla c'è un qualcosa di non pagato, una persona che è bloccata e che è fuori, rimarrebbe fuori dal mercato del credito a lungo, con danni per la banca, per l'intermediario e per il sistema economico. L'obiettivo è aiutare, dando noi gli strumenti, perché noi non facciamo né intermediazione, noi sviluppiamo soluzioni, consentire a chi lo vuole, chi è in grado, chi si è strutturato, di poter affrontare anche questo tema. Naturalmente l'investimento sulla piattaforma, oltre al discorso della digitalizzazione, vanno anche in modo verticale, quindi verso le banche, perché abbiamo iniziato con una banca, puntiamo ad aggiungerne altre a portafoglio, proprio perché vogliamo portare anche nel mondo bancario, approfittando dell'open banking e di tutte le nuove opportunità, processi più snelli, processi che vedano l'attività, la proattività tipica della mediazione creditizia, e vi posso assicurare che ce ne sono tantissime realtà di persone estremamente competenti che sono sul campo tutti i giorni, e che appunto, come diceva Alessia, vanno al di là del dire devi fare la fila, cioè vedono il cliente sempre più come qualcuno da cullare, da accompagnare, da guidare, non qualcuno che deve subire, diciamo, una fila, o deve attendere dei tempi biblici, cioè molto spesso non si comprende, e ancora alcuni intermediari tendono a non comprenderlo, perché una cosa che può essere fatta in ore o minuti, perché vi assicuro che alcuni dei nostri clienti fanno le cose in minuti, se vai presso un intermediario bancario, devono richiedere settimane, non c'è una ragione vera, c'è semplicemente una tradizione che promettili da persone di attendere dei processi. Questa cosa, diciamo, il nostro auspicio, questo su cui stiamo lavorando, anche perché, sapete bene, bisogna offrire anche una sicurezza, un rispetto delle normative, che sono ormai sempre più di livello europeo, portare questo livello di processo e di efficienza in processi e in strutture, quelle delle banche, che ancora non riescono a reggere il passo con queste innovazioni. Questo è il nostro breve, diciamo, programma per i prossimi anni. Bene, le sfide evidentemente sono molte, e sono molte, come dicevamo prima, anche le opportunità. Tutto starà a riuscire a coglierle e sfruttarle per trasformarle in un vantaggio. Intanto, Antonio e Alessia, vi auguriamo buon lavoro, vi facciamo un grande in bocca al lupo, vi salutiamo, vi ringraziamo per essere stati i nostri ospiti. Grazie, grazie Paolo. Grazie a te, grazie a Simpilito. Grazie a Alessia ancora. Ciao, grazie a te Antonio. Un saluto ancora e un saluto anche a tutti i nostri spettatori. Ci rivediamo la prossima puntata della nostra rubrica Face to Face. Grazie a tutti i nostri spettatori. 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 Grazie.